Siamo con Luisella Tealdi, responsabile dell'Ufficio Eventi del Porto Antico, che ci descriverà l'evento di oggi. Ecco, siamo arrivati in questo finale di queste tre giorni di Festa dello Sport, che anche quest'anno ci ha regalato grandissime soddisfazioni. Abbiamo registrato un numero altissimo di partecipanti, siamo veramente oltre a noi. Abbiamo fatto dei calcoli adesso, abbiamo raggiunto 110.000 partecipanti a questa festa, nelle 100 discipline sportive che si sono provate. In queste tre giorni un po', diciamo, non troppo aiutata dal tempo, ma non nulla ha affermato l'entusiasmo dei giovani, dei bambini, delle famiglie, delle scuole. Un grandissimo evento e quindi siamo già al lavoro per la prossima edizione, quella del 2024, che sarà il ventesimo anniversario di Festa dello Sport. Genova candidata a capitale dello Sport 2024, la sua opinione? Ed è proprio questo, proprio il doppio, veramente per noi sarà un anno importantissimo, per la città ovviamente, perché per noi sarà il ventesimo anniversario. Quindi cercheremo, come ogni anno, di dare al meglio, di aumentare ancora di più, anche se sembra impossibile, il numero delle discipline rappresentate. Quest'anno i quattro palchi hanno veramente dato un calore pazzesco alla festa. E quindi noi siamo sicuri che sapremo anche un altro anno rinnovare il nostro impegno e fare una bellissima festa dello Sport. E sperando con un tempo migliore, salutiamo! Grazie mille!